Uomini e donne, Giulio Raselli rompe il silenzio su Giulia D'Urso. Non la conoscevo benissimo. Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, circa due anni fa aveva trovato l'amore al fianco della pugliese Giulia D'Urso con cui è stato per quasi un anno. I due, dopo un lungo periodo di convivenza, hanno annunciato la loro rottura su Instagram a sorpresa, senza però raccontare nel dettaglio i reali motivi che hanno spinto la coppia a separarsi. Intervistato da Noemi Forni in diretta Instagram, Giulio Raselli è tornato a rispondere ad alcune domande in merito alla separazione con Giulia D'Urso, dichiarando, siamo stati molto sfortunati perché eravamo una coppia nuova. Dopo 25 giorni dalla scelta c'è stato il lockdown e in più siamo andati a convivere a Valenza. Io Giulia la conoscevo bene ma non benissimo, l'avevo vissuta solamente in esterna durante i cinque mesi a Uomini e Donne. Giulio Raselli parla del suo percorso a Uomini e Donne, è stato abbastanza naturale. Giulio Raselli, prima di essere tronista, è stato corteggiatore di Giulia Cavaglià. In un'intervista a cura di Noemi Forni, Giulio Raselli ha raccontato tutto ciò che concerne il suo percorso a Uomini e Donne. E in merito al rapporto con i cameraman ha spiegato, davanti alle telecamere non ci ero mai stato, per me è stata la prima volta quando ero corteggiatore ai tempi. Per me è stato abbastanza naturale però, mi sono sentito a mio agio. Giulio Raselli ha poi concluso spiegando che l'esperienza a Uomini e Donne, per chi è un po' più introverso, quindi meno abituato ad avere luci e telecamere puntate, potrebbe risultare molto più difficile. Uomini e Donne, nuovi progetti televisivi per Giulio Raselli, non lo escludo. Giulio Raselli, che di recente ha confessato di aver avuto un problema cardiaco, in un'intervista esclusiva in diretta su Instagram con Noemi Forni ha dichiarato di voler tornare a fare TV. Giulio è sempre stato un ragazzo molto aperto e solare davanti alle telecamere e proprio per questo, un ritorno in televisione non è da escludere totalmente, non escludo di tornare in TV. Potrebbero esserci delle novità a breve. Vediamo come va. È una speranza. Mi rendo conto di star bene davanti alle telecamere, conosco persone stupende quindi perché no, mi piace.